ha una superpotenza del calcio europeo come il Bayern Monaco e la Juventus che gradualmente vuole tornare grande anche Europa. Bisogna fare grandi investimenti anche per questa Juventus per arrivare a questo livello secondo te? Investimenti oculati, più che grandi investimenti, tant'è che in questa sessione estiva di mercato l'unico grande investimento è stato appunto Kavi Martinez, 40 milioni. Kavi Martinez non ha giocato, ciò nonostante il Bayern Monaco sul campo ha battuto nettamente la Juventus. Bisogna sapere acquistare perché grandi investimenti nel recente passato li ha fatti anche la Juve, vi riferisco per esempio ai 25 milioni spesi a suo tempo per Felipe Melo, ai 13 milioni spesi per Martinez. È chiaro che il mercato del Bayern Monaco è stato oculato, mirato, ha preso gli uomini giusti nelle parti in cui servivano appunto quegli uomini. Per il resto Schweinsteiger è un prodotto del vivaglio, Kroos è un prodotto del vivaglio, Lamm è stato preso a comunque costi bassissimi in relazione al valore, anni e dietro dallo Stoccarda, Alaba è un classe 92 cresciuto nel vivaglio. Quindi bisogna innanzitutto curare il vivaglio, lo stesso Muller, e poi andare a parare in quei settori dove ci sono delle lacune da colmare. In questo è stato bravissimo il Bayern Monaco. Secondo me è stato anche fortunato l'altro ieri perché l'infortunio di Kroos ha fatto sì che entrasse subito Robben. E lì che ha abbiato proprio la partita. Robben e Ribéry sono stati chiaramente coloro che hanno creato sistematicamente superiorità numerica, creando quelle che sono le maggiori difficoltà alla retroguardia. Bianconera mi è piaciuto da morire il pressing offensivo applicato dai padroni di casa dal primo all'ultimo minuto. Molti si chiedevano perché giocasse Manzucic al posto di Gomez.